Verdad e justizia! Verdad e justizia! End it now! End it now! End it now! Certamente ci sarà qualcosa, ci sarà già alla fine del nostro convegno, non lo so, perché bisogna che ci siano specialisti per scrivere, per guardare bene, ma penso che abbiamo bisogno di qualcosa di universale per tutta la Chiesa. Ciò che aspettano che tutto sia regolato a la fine di questi tre giorni, ciò che aspettano che tutto sia regolato a la fine di questi tre giorni, ma ciò che aspettano una presa di conscienza, l'ensemble dei ricchi del mondo, a la gravità della questione, e a passare alla questione, a la gravità di questo drame societale e dell'Eglise, ciò che non ci saremmo, ciò che non ci saremmo, ciò che non ci saremmo, anche sul senso dell'esperanza, e soprattutto dei ricchi di paesi che sono confrontati in modo massimo a questo problema. che ci sono i nostri dei ricchi di nostri spiegati, ciò che non ci forme di attrazione hatta, ciò che ci dispiace un po' freddo, ciò che non ci serve se provano, non ciò che deve servire, Grazie.